Le ruspe del centro operativo all'opera dalle prime ore della mattina per rimuovere l'ex ciringhito di Viale Trieste a Pesaro. Da qualche tempo la struttura era abbandonata, fatiscente e pericolosa. All'interno avvenivano anche episodi di bivacco. Da un anno quella struttura lasciata dai precedenti gestori in condizioni non ottimali ha generato una situazione brutta dal punto di vista estetico anche dal punto di vista della sicurezza. In queste settimane tanti cittadini e i fruttori della spiaggia libera hanno segnalato al comune di Pesaro il completo abbandono dell'ex ciringhito. Da qui nasce l'intervento dell'amministrazione comunale con una demolizione e pulizia dell'aria. Per il futuro dello spazio il comune si auspica più chiarezza anche da parte del governo sulle linee guida della Bolkestein. Speriamo di poter riattivare presto un percorso con i privati per la gestione dell'aria, commenta l'assessore Riccardo Pozzi. La confusione generale associata a tutto il tema legato alla direttiva Bolkestein e quindi alla durata delle concessioni ha reso impossibile da parte delle amministrazioni comunali pensare ad un bando per il suo recupero di una durata pluriannale perché per un gestore che si sarebbe poi aggiudicato quella struttura avrebbe dovuto investire tanto per poterla riattivare. Ci auguriamo presto che da parte del governo, della regione ci siano chiarimenti, linee guida, quello che servono per poterci mettere nelle condizioni di poterla riattivare quanto prima e dargli anche una vocazione destinata ai giovani e quindi riportare anche quella vivacità sana che in quel luogo si può ben prestare. In questo momento il lavoro da parte del centro operativo è stato quello di rimozione di questa situazione di bruttura ma non solo ma anche di degrado e di scarsa sicurezza proprio per ridare quel tratto di spiaggia in sicurezza a tutti i bagnanti, i cittadini e i turisti.